Le schede grafiche e gaming trio della serie MSI JForce RTX 30 sono pronte ad equipaggiare il tuo rig. Passate sull'architettura Ampere di Nvidia, queste nuove schede offrono i più alti framerate con effetti di ray tracing sbalorditivi. Il sistema termico Tri-Frozer 2 è dotato di TOLSFAN 4.0, progettato con coppie di ventole legate insieme con un collegamento ad anello esterno, in grado di concentrare il flusso d'aria nel sistema di raffreddamento Tri-Frozer 2. La tecnologia Zero-Frozer è in grado di mantenere le ventole ferme e silenziose quando non è necessario ulteriore raffreddamento. Gli heat-sync sono lavorati con precisione per il massimo contatto sulla GPU. Guardando il retro di queste schede si possono trovare due possibili backplate. Sui modelli di fascia alta abbiamo un backplate in metallo con dissipatori di calore nella parte inferiore. Su altri modelli abbiamo un backplate in grafene. Entrambi questi backplate sono progettati per il miglior raffreddamento della scheda grafica. Con il software MSI Dragon Center e Mystic Light RGB puoi prendere il pieno controllo della tua scheda grafica. Assumi il pieno controllo monitorando le metriche chiave del sistema in tempo reale con MSI Afterburner. Scopri maggiori informazioni sulla pagina del prodotto.